Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione del GIP del Tribunale Partenopeo, ha eseguito tra Napoli e Giuliano in Campania il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie di oltre 1.500.000 euro nei confronti di un gruppo imprenditoriale operante nel settore dei servizi di accoglienza ai migranti. Turbata libertà degli incanti e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sono i reati ipotizzati dalla Procura della Repubblica di Napoli, a carico di diversi imprenditori del litorale Domizio, noti per i loro moltiplici interessi commerciali nel campo della ristorazione e della ricezione turistico alberghiera. Gli indagati, infatti, con la propria condotta, avrebbero indotto in errore con artifici e raggiri la pubblica amministrazione percependo indebitamente un importo complessivo superiore a 1.500.000 euro, corrispondente al valore dei beni e delle disponibilità finanziarie oggetto dell'odierno provvedimento. In particolare, i responsabili, approfittando dell'emergenza causata nel 2015 dagli ingenti flussi migratori, avrebbero utilizzato documentazione falsa allo scopo di attestare il possesso dei requisiti necessari per l'aggiudicazione della gara pubblica indetta nello stesso anno dalla Prefettura di Napoli, per garantire i servizi di accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Più in dettaglio, nel corso delle investigazioni svolte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Napoli, è emerso che l'immobile messo a disposizione per i servizi di accoglienza era di fatto una struttura abusiva, successivamente condonata, dichiarata ai fini urbanistici quale sala per banchetti, priva del numero minimo di servizi igienici, attestato da false perizie e che pertanto non avrebbe mai potuto essere ammesso al bando. Approfittando della grave emergenza causata dagli ingenti flussi migratori e con la compiacenza di un ufficiale sanitario e di un ingegnere, alcuni imprenditori avevano dichiarato di possedere una struttura idonea ad ospitare oltre 350 migranti ed erano così riusciti ad ottenere un milione e mezzo di euro per ospitare i migranti da maggio a dicembre. Le investigazioni condotte dai militari della Guardia di Finanza hanno portato alla luce una stratificazione di condotte irregolari ed illecite che hanno consentito alla Procura della Repubblica di Napoli di contestare turbata libertà di incanti e truffa aggravata per il conseguimento di eroghezzoni.